Un, due, un, due, un, due, un, due È la marcia dei diritti dei bambini Della carta dei diritti dei bambini Marsch! Ho aperto un libriccino ed ho letto con un bambino da mangiare Non ce l'ha E c'è chi non ha da bere con il rischio di morire senza acqua Come fa? Ma come fanno? Io non ci credo Non ci può fare Io non ci credo Ho sfogliato bene bene quelle foto di bambini invicchiate dal lavoro E di quelli senza un tetto e di quelli senza affetto Senza un poco di decoro Ma come fanno? Io non ci credo Non ci può fare Io non ci credo Ma come fanno? Non ci credo I diritti Sono di tutti L'ha spiegato la maestra C'è una carta Senza cosa per difendere i bambini Tutti i capi delle nazioni hanno fatto le riunioni Hanno detto e hanno scritto sui diritti dei bambini Allora perché? Allora perché? Quando gioco al giro tondo penso che su questo mondo c'è qualcosa che non va Che ci sono dei bambini sulle strade abbandonati senza mamma né papa Ma come fanno? Io non ci credo, non si può fare, io non ci credo Poi da un'altra parte ancora c'è chi non può andare a scuola, chi i giocattoli non ha E c'è pure chi si ammala e gli manca quella cura che il suo medico non ha Ma come fanno? Io non ci credo, non si può fare, io non ci credo, non si può I diritti sono di tutti, l'ha spiegato la maestra C'è una carta scritta apposta per difendere i bambini Tutti i capi delle nazioni hanno fatto le riunioni Hanno detto e hanno scritto sui diritti dei bambini Allora perché? Allora perché? Allora perché? C'è un bambino che lavora, che subisce una tortura, che ha venduto come stiavo Chi è costretta per le strade già per vendere l'amore da qualcuno assai cattivo Ma come fanno? Io non ci credo, non ci può fare, io non ci credo C'è chi cresce malnutrito, c'è chi cresce malnutrito C'è chi viene marginato, c'è chi un handicap ha avuto, c'è chi viene malmenato Ma come fanno? Io non ci credo, non ci può fare, io non ci credo, non si può I diritti sono di tutti, l'ha spiegato la maestra C'è una carta scritta apposta per difendere i bambini Tutti i capi delle nazioni hanno fatto le riunioni Hanno detto e hanno scritto sui diritti dei bambini Con la carta il futuro migliore sarà Un, due, un, due, un, due, un, due È la marcia dei diritti dei bambini Nella carta dei diritti dei bambini